Il senso del successo è farsi accarezzare dalla simpatia del pubblico, portarselo a casa e dormirci sopra. Pippo Baudo nel salotto letterario del Cortona Mix Festival nel giorno della sua inaugurazione racconta la carriera e fa un'analisi della televisione italiana di oggi. La televisione è cambiata moltissimo, ormai ci sono porzioni di programmi e poi si assomigliano quasi tutti, questa malattia dei talent per esempio è una malattia che ha influenzato tantissimo sia gli inventori di televisione sia il pubblico. Adesso sto vagliando alcune proposte, ma tornerò, tornerò. L'ottava edizione del Cortona Mix Festival che andrà avanti fino a domenica 21 luglio porta nella cittadina della Valdichiana arti e discipline diverse in tutti i sensi seguendo appunto il tema guida di quest'anno che abbraccia insieme la nostra contemporaneità e l'identità più profonda della manifestazione. Ad inaugurare lo spazio dei concerti live la premiata Forneria Marconi. Grazie a tutti.